Buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Apriamo con questo convegno Giardini, Alberi e Noi, Cambia il rapporto tra uomo e natura, la settima edizione della rassegna Vivi il Verde, quest'anno completamente virtuale. Quello che tentiamo di fare oggi è di proporre una riflessione sul nostro rapporto con il paesaggio e il verde pubblico, anche alla luce della pandemia in corso inevitabilmente. Un legame profondo che vogliamo indagare attraverso i veri protagonisti dei nostri parchi e dei nostri giardini che sono gli alberi, ricordando anche che domani si celebra in tutto il mondo la festa dell'albero il 21 novembre. Lo facciamo con esperti botanici, scrittori e anche una neuropsichiatra proprio per capire al meglio come sono mutati i sentimenti e le emozioni nei confronti dei verde che ci attornia. I relatori sono in ordine, dopo l'introduzione del nostro presidente Roberto Balzani, sono Lucio Montecchio, Gian Mario Villalta, Giovanni Morelli e Alessandro Santa Chiara e Valentina Ivancic, mi sono dimenticato, mi scuso, che sarà la seconda. Comunque avrò occasione di presentarli tutti personalmente uno a uno. La giornata sarà organizzata in questo modo, passerò la parola ai relatori che avranno circa una ventina di minuti a testa e chiunque di voi può fare delle domande cliccando sul pulsante a destra del vostro schermo question and answers, anche durante gli interventi dei vari relatori sarà nostra cura raccogliere al termine dei loro interventi le domande e proporle in diretta se c'è tempo più di una, altrimenti vedremo come fare e vedremo come recuperarle magari attraverso un blog che pubblicheremo in seguito sul nostro sito. Al termine dei loro interventi e delle domande ci sarà la premiazione del premio Vive il Verde 2020 dedicato ai migliori video che hanno dedicato a parchi e giardini in questo periodo di pandemia le loro attenzioni e poi parleremo del concorso di scrittura scritto in un giardino. E se riusciamo facciamo vedere anche uno dei video vincitori, quello più votato dalla giuria. A questo punto io mi taccio e passo la parola al nostro presidente Roberto Balzani che ringrazio per l'attenzione che ha sempre rivolto a questa rassegna che come dicevo prima al settimo anno e quest'anno soffre un po' di questa lontananza perché cerchiamo di recuperare in qualche modo virtualmente. A lei la parola presidente.